Ascolti TV ieri, Arca e GFTPD, Crollo De Martino, Boomer Report. Dati buoni ma non entusiasmanti sia per resta come sia per la finale del Grande Fratello VIP 7. La fiction di Rai 1 ha chiuso con oltre 3,78 milioni di utenti e uno share al 20. 6% numeri simili e 7 giorni fa, il reality di Canale 5 ha coinvolto 2. 87 milioni di spettatori e ha avuto il 24% di share, dunque ha mantenuto dati in linea con le precedenti puntate senza fare il botto. Emorragia di utenti invece per stasera tutto è possibile di Stefano De Martino. Il programma di Rai 2 è passato da 1. 484,000 spettatori della scorsa settimana 1,093,000 utenti di ieri. Una fuga dalla trasmissione di circa 400.000 utenti. Benissimo il ritorno di report su Rai 3, il programma ha raggiunto quasi 1,6 milioni di utenti. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 3 aprile 2023. Striscia la notizia con la coppia Geriscati-Michel Unziker bene, oltre i 4 milioni, ma senza exploa male stasera Italia che è finito sotto il 4% nella prima parte e sotto il 3% nella seconda. Boom di terra amare uomini e donne. Alla prossima. Grazie.